Una pianta dal fascino perenne come la ginestra e la bellezza della sua lavorazione e dei diversi impieghi. Questo al centro del progetto laboratoriale ideato e promosso da Eurocop Yungimundu in collaborazione col comune di Camini e Italia che dalla 9 al 13 di luglio offre ai partecipanti l'opportunità di un'esperienza altamente formativa e far rivivere il piccolo centro ionico. Una delle tante serate che soprattutto nel periodo estivo viviamo all'aperto in armonia con tutte le persone che vivono nel nostro borgo compreso le persone che sono arrivate qui a Camini in accoglienza. Abbiamo più di 113-118 persone di cui più di 40 uscite dal progetto e vivono a Camini hanno acquistato casa, vivono qua perfettamente integrate, hanno un lavoro e ormai sono parte integrante della comunità di Camini. Alla fine questi progetti, questi percorsi di integrazione hanno dato comunque un piccolo spiraglio soprattutto ai borghi interni. Un progetto dove i partecipanti apprendono le tecniche tradizionali di lavorazione della ginestra in una cornice multiculturale tipica del territorio di Camini. Dalla raccolta della pianta fino al suo impiego nella tessitura dove ogni giornata è arricchita con un'esperienza enogastronomica e laboratoriale. Domani la conclusione del laboratorio dove alle 21.30 in piazza a municipio andrà in scena lo spettacolo teatrale in via del tutto eccezionale. La vita di Camini è cambiata, è cambiata in ogni senso, sono nate tantissime attività, le scuole hanno riaperto. Se tu pensi che nel 2011 quando abbiamo iniziato noi, a Camini avevamo una sola pluriclasse con nove bambini e avevamo, anzi stavano lavorando in quel periodo, un operatorio scolastico e una maestra e due persone. Nel 2024 abbiamo due sezioni della scuola materna e abbiamo quattro classi nella scuola primaria. Abbiamo circa 80 bambini che frequentano le scuole, non sono solo bambini di rifugiati che arrivano ma sono bambini pure delle persone del posto.